A Ferrari, sarei bravo il doppio di me in matematica, ma non sei bravo nemmeno la metà della metà di me sullo skate. E tu non sai nemmeno quanto sia la metà di metà di qualcosa. Tu non sai niente. Buoni ragazzi, non sapete quanto sia la metà di metà, perché ancora non abbiamo studiato la divisione tra frazioni. Proviamo a capire insieme come si svolgono. La metà di metà è come dividere a metà la frazione un mezzo, cioè vogliamo svolgere la divisione un mezzo diviso due. Prendiamo la retta dei numeri e consideriamone un'unità, come abbiamo imparato a fare quando vogliamo rappresentare le frazioni. Dividiamo l'unità in due parti, come ci dice il denominatore di un mezzo, e consideriamone una, come invece ci indica il numeratore. Abbiamo così rappresentato la frazione un mezzo. Quello che ora vogliamo fare è dividere un mezzo ulteriormente in due, in questo modo. Notiamo però ragazzi che questa frazione ottenuta è equivalente alla frazione un quarto. Infatti se avessimo diviso l'unità in quattro parti, e considerata una, avremmo proprio ottenuto lo stesso segmento. Possiamo allora affermare che un mezzo diviso due fa proprio un quarto. Per capire quale sia il procedimento generale da utilizzare, facciamo ancora un altro esempio. Quattro quinti diviso due. Per prima cosa dividiamo l'unità in cinque parti, e consideriamone quattro, in modo da ottenere la rappresentazione della frazione quattro quinti in un segmento. Poi ragazzi abbiamo detto che vogliamo dividere in due la frazione ottenuta. In questo modo. Vediamo allora che le parti considerate sono esattamente due su cinque. Cioè stiamo dicendo che il quoziente della divisione quattro quinti diviso due è pari a due quinti. In conclusione ragazzi, facendo una serie di esempi, ci si rende conto che risolvere algebricamente le divisioni tra frazioni, equivale a trasformare la divisione in una moltiplicazione, in cui il primo fattore è il dividendo, e il secondo fattore è il reciproco del divisore. Prof, ma qual era il divisore? Amoretti, ricordiamo sempre il piccolo trucco che abbiamo imparato studiando la divisione in n. Sto dividendo qualcosa per qualcos'altro. Quindi il dividendo è il primo elemento dell'operazione, e il divisore è il secondo. Quindi nel caso in cui sto dividendo una frazione per un'altra, la frazione che abbiamo come divisore, cioè la seconda, dobbiamo girarla su se stessa, portando il numeratore sotto e il denominatore sopra, e cambiando l'operazione da divisione a moltiplicazione. Stiamo in sostanza invertendo il numeratore con il denominatore del divisore, e invertendo l'operazione. Per esempio, nei nostri casi precedenti, il divisore era 2, che possiamo sempre scrivere, come sappiamo, come la frazione 2 fratto 1. Pertanto, il suo reciproco è un mezzo, cioè la frazione ribaltata. Seguendo questa regola, la divisione un mezzo diviso 2, possiamo trasformarla in un mezzo per un mezzo. E quest'operazione sappiamo farla, perché è una moltiplicazione. Il prodotto è quindi un quarto, come è, se ricordate, lo stesso risultato ottenuto tramite la rappresentazione sul segmento. Allo stesso modo, la divisione 4 quinti diviso 2 diventa 4 quinti per un mezzo, dove possiamo semplificare in croce, prima di svolgere la moltiplicazione. 4 diviso 2 fa 2, e 2 diviso 2 fa 1. Quindi il prodotto sarà 2 per 1 uguale 2 fratto 5 per 1, che è uguale a 5. Due quinti, come ottenuto prima tramite la rappresentazione sul segmento. Prof, si può fare la divisione in questo modo, anche quando il divisore è già una frazione? E certo, Ferrari, il reciproco si può fare per tutte le frazioni. Reciproco, sì. Facciamo un esempio, con due frazioni in partenza. 4 terzi diviso 2 noni. Per prima cosa, lasciamo così com'è il dividendo, cioè riscriviamo 4 terzi. Scriviamo il per al posto del diviso, e poi mettiamo il reciproco del divisore. In questo modo otteniamo la moltiplicazione 4 terzi per 9 mezzi. A questo punto possiamo semplificare in croce per evitare calcoli complessi. 4 diviso 2 fa 2, e 2 diviso 2 fa 1, 3 diviso 3 fa 1, e 9 diviso 3 fa 3. Quindi, resta da moltiplicare 2 primi per 3 primi, che fa 6. 6 è quindi, ragazzi, il risultato della divisione 4 terzi diviso 2 noni. E ricordate che questo metodo è sempre applicabile, perché ogni numero può essere scritto come frazione con denominatore 1, e che di ogni frazione si può fare il reciproco. Alla prossima, ragazzi! Alla prossima, ragazzi! Grazie a tutti